Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimetro all'aggiornamento per le previsioni nel breve e medio termine. Ci concentreremo in questa sede in particolare nel periodo che va da venerdì al lunedì 2 giugno, quindi il ponte per l'appunto del 2 giugno. Partiamo dalla giornata di venerdì che come avrete già avuto modo di leggere nei nostri articoli sarà caratterizzata ancora da estrema variabilità con dei rovesci dei temporali sparsi. Ma concentriamo la nostra attenzione in particolare sul dettaglio della Val Padana perché stando alle ultime missioni modellistiche entro sera potrebbero arrivare fenomeni anche di una certa importanza accompagnati da grandine e raffiche di vento. Quindi attenzione a venerdì sera. Nella giornata di sabato come dicevamo tempo ancora estremamente variabile su buona parte della penisola con ancora dei rovesci dei temporali. Vedete le aree più penalizzate saranno quelle alpine, il nord ovest ma soprattutto l'appenino con sconfinamento dei fenomeni fin verso i versanti tirrenici. Le correnti settentrionali puliranno un po' i cieli invece del versante adriatico soprattutto durante le ore pomeridiane. Per quanto riguarda la domenica stessa musica ancora tanta variabilità sulla nostra penisola con nuovo rischio di acquazione temporali come vedete ancora una volta soprattutto sulle aree interne del centro sud ma con sconfinamento dei fenomeni anche sulle tirreniche. Attenzione a temporali attesi anche sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia. Andrà un po' meglio al nord in particolare sulla Valpadana centro orientale così come ancora una volta sulle coste adriatiche sempre durante le ore pomeridiane. Per quanto invece riguarda la giornata di lunedì le cose potrebbero complicarsi ulteriormente con ulteriore incentivazione dell'instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane e sulle aree interne. Questo a causa della discesa continua di correnti fresche dalla nord Europa che come vedrete continuano a confluire appunto sul Mediterraneo centrale alimentando questo tempo spiccatamente dinamico e capriccioso. Insomma per la stabilità e il caldo estivo dobbiamo ancora attendere un po' di giorni. Bene per adesso mi formo qui e per tutti gli aggiornamenti previsionali vi invito a consultare il sito trabimeteo.com